Io in questo caso ho voluto utilizzare una pasta diciamo poco convenzionale, quindi i subbiotti che sono diciamo la pastina in brodo, quindi l'idea nasce nel fare una minestra in brodo, quindi la classica minestra in brodo che con Simone Sangiorgi che poi è il mio chef di cucina, poi c'è anche Matteo Prandi su Chef, ci divertiamo a pensare a delle cose che poi possono diciamo diventare anche stimolanti, però richiamando sempre la parte diciamo della tradizione. Quindi cosa facciamo? Inizio a presentare la ricetta, quindi i subbiotti, quindi questa pasta che è la pasta che normalmente si utilizza per fare la minestra, le pastine in brodo, con le verdure. Abbiamo preparato un brodo, un brodo di grana padano, verdure e poi all'interno di questo brodo andrò a cucinare sia la pasta che le verdure, quindi in modo separato. La cosa che completa poi questo piatto, lo vedrete più avanti, è una meringa che viene messa sopra al piatto finito. Allora, la prima cosa che facciamo è andare a cuocere la pasta, quindi vado a insaporire la pasta cucinandola direttamente nel brodo di verdure che abbiamo preparato, con gli scarti di queste verdure qui che adesso vi presento, che saranno poi l'elemento che andrà a completare il piatto, e le croste del grana padano. Quindi il brodo è stato preparato con questi ingredienti qua, quindi tutta la parte non utilizzata nel preparare la parte principale della ricetta l'abbiamo messa nel brodo. Vado a mettere in cottura da questo lato i subbiotti, quindi la pasta, quindi questi hanno otto minuti di cottura, giusto Simone? Ok. E le verdure le vado a cucinare nell'altro brodo, quindi inizio dalle verdure più resistenti, quindi abbiamo delle carote, delle patate, sedano rapa, della barbabietola, zucca e zucchine. Quindi andrò a inserirle nel brodo di cottura in questa sequenza. Quindi inizio con le carote, anche queste hanno quattro, tre, due minuti di cottura, quindi una cottura veloce perché le tengo al dente. Adesso regoliamo la piastra, quindi per far bollire. Nei pochi minuti di cottura, oltre il risultato voluto, appunto croccante al dente, contribuisce anche il taglio, chiaramente. Contribuisce anche il taglio perché il taglio della verdura che abbiamo dato è la stessa forma del subbiotto, quindi ho voluto mantenere lo stesso formato, vedete, in modo da dare la stessa geometria anche nell'impiattamento che verrà fatto. Questa è stata in realtà un'idea di Simone e lui che ha detto proviamo a fare le verdure tagliate come una pastina. E quindi si è messo a scolpirle una a una. Ci è piaciuto molto questo tipo di taglio, no? Allora adesso ho messo le carote, aggiungo le patate, quindi gli diamo dai 30 ai 40 secondi tra una verdura e l'altra in modo che la cottura poi sia regolare. Nel frattempo la pasta sta continuando a cuocere. E l'altro elemento che vi faccio vedere, che va a completare il piatto oltre alla parte liquida che è il brodo, che poi recupereremo per completare tutto, è la meringa. Questa meringa che abbiamo preparato, quindi le meringhe classiche che stanno appunto essiccando, si mantengono croccanti all'interno di questo essicatore. Queste meringhe, per dargli l'idea completa dell'effetto grana padano, sono innanzitutto delle meringhe che vengono fatte, quindi grana padano grattugiato insieme all'albume. Quindi è una meringa che ha una sapidità anche, quindi è un po' sapida come sapore. Completo, vado ad aggiungere il sedano rapa e anche le barbabietole rosse. Quindi le verdure stanno continuando la cottura, la pasta continua la cottura. Regoliamo il calore, la temperatura. E quindi cosa succede? Abbiamo creato questo timbro, classico timbro, che ci servirà poi per andare a segnare la meringa che verrà poi posizionata alla fine sopra al piatto finito. Quindi imprimi un marchio di fatto su... Imprimo il marchio del punto grana padano, in questo caso avendo utilizzato questo formaggio per la preparazione del brodo e anche della meringa. È molto bello perché ritorna un po' l'idea del brodo fatto con la crosta del formaggio. Esatto, le minestre in brodo che si utilizzavano, si mangiavano spesso in passato e venivano preparate con le croste del formaggio, del grana padano. Questo era un recupero anche di tutti quelli che sono, diciamo, gli scarti che magari non sono stati utilizzati in questo caso perché avendole tagliate in questo modo abbiamo fatto degli scarti che ci sono serviti per la preparazione del brodo. Quindi comunque l'estatica non va a scapito della sostenibilità perché poi riutilizzi tutto. Massima sostenibilità, assolutamente. Aggiungo la zucca anche e per ultimo aggiungo le zucchine. Quindi abbiamo ancora qualche minuto di cottura, quindi le verdure creano anche un effetto a livello estetico di colore gradevole anche perché il piatto, oltre ad essere buono, secondo me deve essere anche gradevole nei colori, nell'abbinamento degli ingredienti che si aggiungono. Appetitoso anche nell'aspetto cromatico. Quindi di fatto hai fatto una minestra di verdure. Una minestra di verdure. Nel senso di parole. Il termine finale del piatto può essere anche identificato in questo modo. Adesso, Simone, se è pronto il timbro, andiamo a timbrare, facciamo vedere come timbriamo. Vieni, vieni Francesca, ne approfitto, perché per esigenze di foto... Foto, vai, passa pure. Francesca Brandilla ci segue per le foto ufficiali di identità di pasta dalla prima edizione, quindi... Quindi andiamo a imprimere, vedi, il timbro è caldo, a caldo si va a imprimere e la meringa crea il simbolo del grana padano che... Così a ricordare i pezzi di crosta che poi si trovavano proprio nei brodi casalinghi d'altri tempi. Adesso aggiungo la zucchina per completare la cottura delle verdure. In questa padella aggiungo un po' di brodo sempre di verdure, grana padano, lo stesso che abbiamo usato per la cottura, olio extravergine, che mi servirà per condire poi la pasta e le verdure prima di impiattare. Quindi in questo modo. Adesso aspettiamo che siano pronte, poi le scoliamo. È un piatto che hai in carta, che proporrai? Questo è un piatto che metteremo in carta perché l'abbiamo realizzato e pensato per identità golosa e identità di pasta e quindi sarà un piatto che poi entrerà nel menu dei brodi. Quindi la meringa che ha questo sapore, peccato che pochi possono assaggiarla. Uno, io. Sei già un riferimento importante, quindi... Ringrazio. Che ha questo effetto sapido e sa di grana padano, questo gusto di grana padano. E sono curiosa anche della consistenza perché immagino particolarmente fiabile. Scusami se ti ho interrotto, l'idea di farla anche rotonda perché richiama un po' la forma del grana padano. Poi le abbiamo fatte anche rettangolari. A questo punto vado a scolare. Scaldo la padella. Le verdure hanno bisogno di ancora un minuto. E quindi nella forma anche omaggi un po' questo formaggio storico. Insomma, pensa che ce ne sono tracce fin dal 1135. Pare che i monaci cistercensi dell'abbazia di Chiaravalle fossero stati tra i primi a provare a rendere formaggio insomma a caseificare in quella zona il formaggio. Questa è una pasta di grano duro. La piastra questa è. Ok. Guarda, intanto che sistemi la piastra mi hai detto è una pasta di grano duro. Mi viene in mente, sì, ovviamente. Grano duro. Anche la pasta ha una consistenza che tiene bene la cottura. Ma soprattutto c'è un profumo che è l'unica cosa che ancora la tecnologia non ci consente di condividere con gli altri. Le immagini per fortuna... Il fatto di averla poi cotta nel brodo di verdure e grana padano e poi mantecata anche in questo modo. L'ultimo passaggio poi, prima di impiattare, una grattugiata di grana padano. Le verdure si sono ben amalgamate con la pasta. Tutto è uniforme. Devo dire che questo gesto nella sua semplicità resta sempre molto affascinante da vedere in video, vero? Quando metti una foto, un piccolo video, uno slow motion così, ha sempre tante visualizzazioni perché ha un che di affascinante. Adesso la impiattiamo. Quindi mettiamo, alternando sia la pasta che le verdure, quindi ci sarà un alternarsi di verdure e pasta. Quindi questo è l'effetto appunto del minestrone che poi lo completiamo. Questo magari è un passaggio... Magari a casa lo facciamo col cucchiaio. Vabbè, si può fare anche a casa volendo. Sì, sì, ma la questione è solo di avere pazienza, non è... Beh, ma la pazienza in cucina quando si preparano dei piatti è alla base del risultato poi di un lavoro che facciamo. Assolutamente. Quindi vedi, distribuiamo in modo uniforme anche per creare un effetto minestrone, però ordinato. Quindi vedi che impiattamento poi chiaramente ci permette di servire tutto anche in modo a temperatura corretta, quindi caldo, perché alla fine vedrai quando metteremo il brodo, il brodo è caldo e quindi fa sì che il piatto sia sempre caldo anche se magari i tempi di impiattamento sembrerebbero un po' più lunghi. però poi col brodo caldo tutto il cerchio si chiude. Ovviamente la parte importante di tutto quello che facciamo alla fine è sempre il gusto perché il gusto deve racchiudere poi tutto il lavoro che viene fatto nell'impiattamento, nella preparazione e in tutti i vari passaggi che ci sono in un piatto. Tanta fatica al servizio del gusto. La differenza tra farlo al ristorante e farlo a casa è che mentre lo fai a casa uno lo mangi e uno lo metti nel piatto. Cosa andiamo ad aggiungere? Andiamo ad aggiungere la meringa che dicevamo prima. Avendo questi piatti un po' più piccoli l'abbiamo preparata a rettangolare prima in modo da non coprire completamente il piatto. Meringa sopra la pasta e sopra le verdure e poi l'ultimo passaggio è l'aggiunta del brodo. Quindi questo lo completiamo qua per farlo assaggiare a Deleonora. E quindi ritorniamo al minestrone di pasta con le verdure. E questo è il piatto finito.